non vanno a braccetto un addio al celibato e la gara di che ho il giorno dopo ma tu sei recidivo perché comunque io mi ricordo una volta che sei raggiunto ad olada partendo alle 4 del mattino hai fatto la sport questa cosa me la ricordo bene potrebbe essere la tua fortuna una prestazione della madonna andiamo la sopra dei secondi qua abbiamo il davide prova vela comprata comprata davide andiamo a vedere l'atterraggio al volo è già qua l'atterraggio eccolo lì la velocità aumenta la velocità ma vuol dire ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.